Lo hanno trovato completamente carbonizzato dalle fiamme un uomo disabile di 77 anni che era all'interno della sua abitazione in via Lorenteggio che nella mattina di mercoledì 26 ottobre è stata distrutta da un incendio. E' questo il tragico bilancio riferito dalla centrale operativa dei Vigili del Fuoco che intorno alle 10.30 di mattina è dovuta intervenire nell'alloggio popolare al civico 183. I pompieri infatti sono subito arrivati sul posto con quattro squadre che sono riuscite a domare l'incendio in tempi brevi ma una volta spente le fiamme per l'uomo non è stato possibile alcun soccorso. Ad arrivare sul posto anche il personale dell'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza con un'ambulanza e un'automedica oltre alla Polizia di Stato con le volanti e la scientifica incaricata di fare i rilievi. I Vigili del Fuoco hanno poi confermato che la palazzina è ancora agibile visto che le fiamme hanno coinvolto solo l'appartamento della vittima. Il corpo esanime del 77enne è stato trovato vicino ad una poltrona in sala dove è partito l'incendio e dove si suppone che si trovasse seduto addormentato. Secondo le prime dichiarazioni non è ancora chiara l'origine dell'incendio ma tutte le squadre sono ora al lavoro per capire cos'è che ha scatenato le fiamme. A commentare la notizia è anche la consigliera del PD Carmela Rozza che ha riaperto la questione sulla situazione di degrado nelle case popolari Aler. Purtroppo simili episodi non accadono a caso negli stabili di edilizia popolare dove sono fin troppo evidenti il degrado e l'abbandono peggiorati anche dalla mancanza di una guardiania. I Vigili del Fuoco stabiliranno se erano attivi sistemi antincendio quel che è certo e che non può non indignare è che dal 2015 è stata promessa la riqualificazione del loro enteggio ma ad oggi non è stata ancora concretizzata.